Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi un prodotto Smart Yacht di Belinassu. Si tratta di una sonda yacht modificata per arricchire leggermente la miscela, soprattutto ai bassi e medi regimi, per consentire un'eliminazione barra diminuzione dell'effetto on-off sulle nostre moto. In questo caso parliamo di una Kawasaki Z650, come ben sappiamo tutti una bicilindrica di casa Kawasaki che purtroppo soffre molto di questo effetto on-off. Quello che andremo a fare oggi sarà creare un video tutorial per arrivare a montare correttamente questo tipo di elemento e quindi eseguire correttamente questa modifica. A voi il video. L'operazione principale è la rimozione del serbatoio perché il sensore yacht si trova al di sotto del serbatoio, esattamente dove è alloggiata la scatola filtro. Da qua purtroppo non si vede ancora ma è più o meno in questa zona qua, è ancorato alla cassa filtro che si trova qua sotto. Ok allora come prima operazione smontiamo questo blocchetto qua e iniziamo dallo smontaggio del blocchetto delle chiavi. Molto semplice, lo si prende con il pollice e con l'indice e si tira verso l'alto e rimane in mano questo blocchetto. Poi successivamente smontiamo una, due. Abbiamo rimosso anche le due brugoline qua quindi due in alto e due qua. Ok sganciamo una volta sganciate queste qua tutta questa parte si tira semplicemente con le mani in questo modo da una parte e dall'altra così e così la si prende da qua sotto così. Ci sono delle alette e questo qua viene completamente via. Poi qua abbiamo dei poussoir che sono da premere, vedete questi poussoir qua uno li preme, vedete fanno clac col dito, ne abbiamo tre, uno, due e tre. Molto semplice, basta soltanto lunghe, vi faccio vedere. Prendo il dito e premo. Vedete vengono giù. Ne abbiamo tre da entrambe le parti. Quindi andiamo a rimuovere tutta questa calandra, ok? Poi passiamo a rimozione, uno, due, tre, quattro. Ok per rimuovere questo fianchetto è molto semplice, ha tutti dei poussoir questi qua che vanno inseriti all'interno di questi gommini quindi semplicemente tirate facendo forza in questo punto qua, questo e questo, ok? Tirate verso di voi e quindi questa parte qua viene poi completamente via. Stesso discorso per questa copertura, come potete vedere ha alcuni gancetti, uno e due, che vanno alloggiati da queste parti qua. Una volta rimosse le clip che vi ho fatto vedere prima, che sono queste qua di plastica, basterà tirare verso di voi, ok? Rimuovete anche questi tre bulloncini qua, uno, due e tre, ok? Così viene via tutto insieme. Ora come potete vedere questa parte qua è ancorata con ancora due bulloncini che andremo adesso a togliere per riuscire a liberare completamente il fianchetto. Ok, ripetiamo l'operazione anche da questa parte, quindi smontiamo questo bulloncino qua, tiriamo perché tutto ha pressione, poi liberiamo questa copertura qua, togliamo gli ultimi due bulloni e rimuoviamo tutta la copertura. Il risultato da ottenere è questo qua, perché liberiamo completamente il serbatoio che poi si sgancerà tramite questi due bulloni e questi due che vediamo qua sotto. Ok, allora, come detto prima, rimuoviamo la staffa che fa tenuta per questi poli positivi negatività della batteria, andiamo a rimuovere i due bulloni qua, i due bulloni qua, a questo punto abbiamo il serbatoio che ha un minimo di gioco. Onde evitare doverlo svuotare, fare casine, eccetera, eccetera. Ora io cercherò di farvi vedere dove si trova la smartyat. ecco la lì, quella lì, lì vedete, lì è la smartyat. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è svitare semplicemente quella vite e andare a sostituirla con la smartyat di Belinassu. Ok, salve a tutti ragazzi e rieccoci qui alle considerazioni finali di questa sonda yacht modificata di Belinassu. Allora, ho voluto aspettare qualche settimana prima di girare questo video, proprio per riuscire a provarla, insomma, meglio e portervi dare delle conclusioni il più reali e veritiere possibili. Allora, c'è da dire che effettivamente va a eliminare, diciamo, diminuire molto l'effetto on-off del mezzo. Un'altra cosa positiva che ho notato è che a basse velocità e marce comunque, diciamo, leggermente alte, come possono essere una seconda o una terza, la moto non strattona più. Questa è una cosa molto, molto positiva perché prima comunque si doveva per forza giocare molto con la frizione quando si era in mezzo al traffico, invece adesso bisogna sempre comunque essere molto chirurgici con l'acceleratore, nel senso che è molto sensibile l'acceleratore. Però c'è da dire che non strattona più, non strappa più, quindi cosa molto, molto positiva. L'unica cosa che ho notato è che il minimo va leggermente regolato perché si alza di quei, adesso purtroppo non è completamente digitale, ma a orecchio direi due, trecento giri tutti. Come si fa a regolare il minimo? Molto semplice, qui abbiamo il motore, dietro al motore abbiamo questa vite che serve appunto per la regolazione del minimo. Noi andiamo a giocare con questa vite, stringendole, allentandola e a orecchio vediamo un attimo come regolarla. Quello che ho notato io è che aumenta di due, trecento giri, non ve lo so dire. Comunque l'ho usata per tre, quattrocento chilometri ancora e devo dire che veramente è cambiata notevolmente. Ne approfitto per far vedere anche il serbatoio. Il serbatoio, non so se avete visto nel video quello che ho girato per il tutorial, presentava delle macchie, diciamo, importanti a livello di contatto con il, insomma, l'inguine e la zona delle gambe. Ora come potete vedere assolutamente non presenta più quelle macchie. Come ho risolto il problema? Perché io avevo un problema che era legato al, a non so dirvi, perché io ho cambiato pantaloni, ho cambiato giacca, niente, non sono riuscito a risolvere questo problema e si continuava a sporcare, soprattutto in questa zona qua, dove adesso come potete vedere non è assolutamente sporco e ho fatto comunque quattrocento chilometri. Prima dopo cento chilometri già si iniziava a vedere qualche macchia. Che prodotto ho utilizzato? Ho utilizzato questo, Cupido, della linea Labo Cosmetica. È un sigillante nanotecnologico che serve appunto a sigillare le superfici, quindi praticamente evita che le superfici si, tra virgolette, sporchino facilmente e aiuta anche in fase di lavaggio. Io ho risolto con questo prodotto, quindi per chi avesse questo problema, per chi avesse la Z650 bianca, come nel mio caso, che si sporca veramente a vista d'occhio, l'ho usato anche qua sul, diciamo sulla cornice del fanale, questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Quindi ragazzi vi saluto, spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi sia utile e consiglio assolutamente di fare un video sulla pagina di Bellinassu perché la moto è realmente cambiata. Ciao a tutti, grazie per la visualizzazione.